allora questa è la situazione a torino 24 maggio vi faccio vedere non so se si vede oggi stamattina caldo torrido adesso temperatura intorno ai 12 13 gradi cielo coperto questa è la situazione la situazione ideale per per le grandinate che in genere si verificano nei mesi di maggio giugno e luglio quindi grandinerà ovviamente non lo posso sapere però le combinazioni climatiche sono ideali per per le grandinate che in genere con con questo clima non dovrebbero non dovrebbero creare grossissimi danni sulle vetture specialmente specialmente in città faccio questo video per due motivi adesso non è ancora stagione di riparazione auto grandinate se vi serve seguire i corsi contattatemi in maniera tale che quando grandinerà vi potrete aprire se non se già non l'avete partita iva per tirabolli alla fine vi costa come costi fissi in camera di commercio 80 euro il commercialista se non aprite partita iva per conto vostro vi chiede all'incirca 100 150 euro di parcella però avendo fatto il corso potete andare in carrozzeria a esercitarvi provare e migliorarvi avendo comunque delle basi solide su cui far pratica il secondo motivo per cui faccio i video faccio questo video sono i pacchetti riparazione in alta stagione le riparazioni vengono fatturate anche mille 1200 euro a macchina se siete compagnie assicurative e volete risparmiare e comunque negli anni fare un favore ai clienti quindi pagando pagando meno meno come sinistri ridurre anche l'importo delle polizze che devono pagare i clienti valutate di acquistare dei pacchetti riparazione per il piemonte e il risparmio rispetto alle riparazioni in alta stagione può arrivare può arrivare anche al 30 40 per cento se vi occorre vettura sostitutiva al cliente per il periodo di riparazione sul numero di vetture da riparare non non ci sono problemi però valutate ovviamente le offerte l'acquisto dei pacchetti in tempo ripeto adesso non è ancora non è ancora alta stagione penso che una ventina di giorni ci sono prima di organizzare il lavoro ripeto valutate in tempo in maniera da risparmiare voi e far risparmiare anche i vostri clienti se siete dei network che pagate le vetture a scaglioni faccio un esempio 300 500 700 900 euro valutate anche voi l'acquisto di pacchetti di riparazione in questo periodo anche per voi i risparmi possono possono essere possono essere ingenti quindi si parte da un 15 per cento e si va anche anche nel vostro caso a un 30 per cento quindi ovviamente bisogna poi valutare se lo smontaggio lo fate voi o se lo smontaggio lo fa il levabolli quindi nel caso lo smontaggio lo faccia il levabolli le percentuali di sconto sono sono un po inferiori ripeto valutate perché in alta stagione specialmente quest'anno che c'è stato un aumento di prezzi su su energia sui beni di consumo si arriverà a riparare macchine complete anche a mille due mille cinquecento euro quindi valutate l'acquisto di pacchetti assicurativi se video di questo tipo vi interessano fatemelo sapere se volete prenotare 100 200 o anche anche parchi auto in numero superiore da riparare contattatemi e per i corsi ripeto trovate tutto nei link in descrizione ci vediamo nei prossimi video